Due sedute a settimana con tre audizioni ciascuna, la relazione finale è inizio novembre. Sarà un calendario serrato, quello della Commissione d'inchiesta regionale sul sistema di tutela dei minori in Emilia-Romagna. La programmazione dei lavori che saranno trasmessi in streaming è stata decisa nella prima seduta. L'ufficio di Presidenza ha poi comunicato che sono state accolte tutte le richieste di audizione, una sessantina. Anche quelle di persone indagate, quindi anche le più delicate, credo che questo sia il segno che si sta davvero lavorando seriamente e con la massima trasparenza, una casa di vetro. Quello che ci interessa è la verità, mettere all'angolo eventuali responsabilità politica ovviamente perché poi le indagini spettano la magistratura e se c'è un sistema che non funziona va assolutamente eradicato.